Invezzamenti negativi fatti da Pierina nei tuoi confronti, nei confronti di tua sorella e della vostra famiglia. Sì, sì, è vero. Infatti quando lo sono venuto a sapere ho provato a... Quando sei venuto a saperlo? Domenica. Domenica prima della morte di Piera. Perché diciamo che queste cose mia sorella le è venute a sapere nei giorni precedenti proprio. Nei giorni precedenti alla morte di Pierina? Esatto. Cosa è venuta a sapere tua sorella? Ma è venuta a sapere di parole poco gradevoli nei suoi confronti. Tipo? Ma tipo che dai la reputava una persona che era diventata un po' facile. Logicamente Piera era molto abbattuta per il fatto che mia sorella aveva abbandonato il tetto coniugale. Queste parole mia sorella le era venute a sapere in maniera fortuita sentendo delle telefonate da muro a muro. Per il tramite anche di Valeria? Per il tramite di Valeria ma Valeria siccome è una persona onesta ha voluto far sentire direttamente a mia sorella determinate cose. L'ha invitata a casa e mia sorella le ha appurate di persona. Cioè hanno origliato attraverso le pareti? Mi hanno detto proprio che si sente come se fossero nella stessa stanza, specialmente se una persona grida e parla in viva voce. E con chi parlava Pierina? Con i figli, con uno dei figli, però non so chi. Sicuramente no con Giuliano? No, no con Giuliano no, penso con i figli che stanno lontano. E come mai Valeria ha fatto fare questa cosa a tua sorella? Perché ha fatto origliare e creare comunque attriti tra la suocera e la nuora, cioè tra Manuela e Pierina? Valeria non ha assolutamente voluto creare attriti, ha voluto semplicemente informare un'amica in maniera diciamo corretta senza dire te lo dico io per cui credimi e proprio farlo sentire a lei di persona. Per cui per me Valeria è stata corretta essendo amica di mia sorella. Sono grandi amiche tua sorella e Valeria? So che si conoscono da 25 anni, per cui sono abbastanza legate. Allora, dichiaro di aver sempre avuto 4 in matematica, quindi non mi azzardo nei calcoli, però se mi aiutate, è una curiosità mia, quante possibilità ci sono che Valeria possa invitare Manuela a casa sua per origliare una telefonata? Lei aveva già sentito. Che lei aveva già sentito in precedenza, però se io ti dico vieni a casa mia Monica che ascoltiamo una telefonata che probabilmente Piera farà ai figli, a uno dei figli. Ma quante possibilità ci sono che in quel momento Pierina chiami uno dei suoi figli per ridire quello che aveva già detto in precedenza? Questo francamente non è credibile. Trasferisci a casa mia fino a quando non sentiamo un po' se la c'era che telefono. Io ho sentito una persona che l'aveva sentita dal balcone, cioè inizialmente che Valeria aveva sentito questa telefonata dal balcone di Pierina che parlava fuori e che lei aveva sentito dal balcone. Stiamo alla versione di oggi. Sì, ma appunto dico, però come fai a evitare? Tu sei brava in matematica, quante possibilità ci sono? Zero. 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 Dottoressa Bruzzone, lei ci crede? No, ci crede, per carità. Neanche un po'. Neanche un po'. No, non mi sembra assolutamente una ricostruzione credibile. Cioè è chiaro che è possibile che Valeria abbia sentito parlare Pierina al telefono con i figli, questo mi sta bene. Sì, questo sì. Ma che questa si è stata invitata a casa e fatalità proprio mentre quest'altra stava a casa. Pierina cosa fa? Richiama il figlio a rifare lo stesso tipo di chiamata? Mi pare una roba che veramente... No, questo... Fido un po' le regole della logica più basilare, insomma. Onestamente questa ricostruzione non mi convince neanche un po'. Allora, vi sento tutti velocemente. Fabrizio Carcano, poi c'è un'altra cosa, diciamo, un po' poco verosimile. Se tu, così come Antonella Boralevi, doveste in un giallo raccontare questa parte di questo delitto, lo fareste dire a un vostro? Intanto dire, abbiamo saputo una settimana prima, pochi giorni prima del delitto... Sì, stiamo cercando un movente per il delitto. Va bene, il movente c'è, ce l'ha raccontato. Astrettamente. Astrettamente, non sono neanche indagati, assolutamente. Astrettamente il movente ce l'ha raccontato. C'è un movente di Astio nei confronti di questa suocera che avrebbe dato poco di buono sostanzialmente alla nuora. Questo è astrettamente il movente. Ma lasciamo stare perché non c'è un movente perché non sono stati loro. Ma nel racconto di Valeria che chiamava a noi, lei dice, viene a casa mia e così ti faccio sentire... No, questo non è credibile però. Assolutamente, è completamente incredibile e inverosimile. In un giallo non funzionerebbe mai. Non funzionerebbe. Ma assolutamente no. Antonella, diciamo che la realtà supera la fantasia in questo caso. Io invece, se lo dovessi scrivere io, questo giallo, io mi chiederei, farei la domanda opposta. Cioè direi, insomma, raccontare quello che ci ha appena raccontato Loris è una pura idiozia perché vuol dire mettersi da soli in una posizione di debolezza. Una settimana prima di essere ammazzata, noi abbiamo saputo che la signora Piera ce l'aveva con mia sorella. E io invece domanderei che interesse ha Loris a fare la figura, diciamo, vogliamo dire dell'ingenuo, per non dire un altro aggettivo, raccontando questa storia. Questo c'è molto sotto. La polizia lo sa che non correva buon sangue, lo sa dall'inizio perché nel decreto di perquisizione, di acquisizione... Ma perché racconta l'episodio, il muro, il telefono? Perché l'hanno detto a denti? No, scusate, qui si sta coprendo, poi magari sbaglierò, si sta coprendo qualcosa che gli inquirenti magari stanno per scoprire o hanno già scoperto, noi non lo sappiamo. C'è qualcosa di diverso. Questo astio non corrisponde semplicemente al fatto che lei aveva un'amicizia platonica e se n'era andata di casa. C'è qualcosa di molto più grave che noi adesso, lo dico così, come ipotesi. Non possiamo dimenticare che l'amicizia platonica però, scusate, Manuela l'avrebbe avuta proprio col marito di Valeria, c'è qualcosa che non torna. In quanto platonica, diciamo. In quanto platonica, però siamo così amiche che io ti faccio sentire la telefonata... Ma non sta in piedi da nessun punto di vista. Tatiana, tu che ormai i protagonisti di questo giallo li conosci da settimane, intanto questa amicizia platonica tra Manuela e Luis, era proprio un'amicizia platonica, era una... Perché puoi chiamarla amicizia platonica? È una semplice amicizia. Ecco, questo è interessante. Gli inquirenti l'hanno definita una relazione, proprio nei verbali che abbiamo avuto in possesso e che abbiamo avuto modo di leggere. Loro parlano di relazione. Eh no, loro sì, però ricorderai che Loris parla invece di una relazione platonica. Loris parla di un'amicizia profonda, parla di un'amicizia fraterna, loro parlano di ottimi rapporti di vicinato. Lui dice un'amicizia platonica, così dice Loris, forse, non so, platonico, sì, diciamo amicizia platonica. Non eravamo più abituati a sentire parlare di amicizia platonica. E scusazio, non petita. Però va bene, questo è un altro punto. C'è la seconda parte dell'intervista di Loris, realizzata da Tatiana Bellizzi e Marco Bonifacio. Sentiamo. In merito a quelle fotografie invece che ti ha scattato tua sorella, cosa ci puoi dire di più questo cane che compare, che non compare? Ci avevi raccontato che stavi giocando a terra con il cane, invece qual è la verità? Allora, no, la verità è che stavo per terra e c'avevo il cane tra i piedi, quello sì. Logicamente mi ero buttato per terra, non per giocare col cane inizialmente, ma perché ero stanco morto, dovevo andare a casa e non c'evo voglia. La cosa che ci ha fatto divertire è che il cane, che di norma, come dice mia sorella, è diffidente, ha iniziato a buttarsi di peso su di me, mentre ero in quella posizione. Dopodiché mia sorella e mia nipote sono spostate sul divano per fare la foto, però da quel momento il cane ha iniziato a tenere distanze da me. Prima dell'incidente, come erano i rapporti tra tua sorella e il marito? Beh, sicuramente non c'erano dei rapporti paradisiaci proprio perché mia sorella è andata via, questo mi ha fatto capire che non andava benissimo. È vero che la presenza di Pierina era molto forte nel menage familiare di tua sorella e Giuliano? Sì, e io penso che sia anche normale quando una madre, un padre o comunque una famiglia ti abita proprio di fianco, che sia presente. Questo potrebbe avere infastidito tua sorella in qualche modo? Probabilmente sì. Si dice, ma è per carità che Giuliano fosse una persona molto autoritaria in casa? Un autoritario per modo di dire perché aveva un'imponenza quando parlava, ma in realtà non lo era. È sempre stata una persona molto dolce, tanto che da mia sorella cercava tantissimo la dolcezza. È vero che tuo cognato era particolarmente geloso nei confronti di tua sorella? Beh, geloso sì, questo qui lo devo ammettere. Però mia sorella è sempre stato un tipo che di famiglia, anche noi siamo autoritari, se voleva fare una cosa la faceva. Probabilmente mia sorella aveva paura di dispiacergli per determinate cose, ma non penso che Giuliano la obbligasse a non uscire o altro, perché mia sorella lo poteva far benissimo al carattere di farlo. Allora, ci siamo non solo noi interrogati a lungo sul particolare delle foto, che sarebbero state inviate dal telefonino di Emanuela a quello della nipote. Quindi anche in questo caso, chissà la nipote dov'era, chissà la nipote cosa faceva. In realtà, oggi abbiamo la conferma, vediamo però se Tatiana Bellizzi ci dice qualcosa in più di questo punto, che quando avvengono questi scatti, quindi alle 22.50, 49.51, adesso l'ora precisa non la ricordo, la nipote di Loris, quindi la figlia di Emanuela, è sul divano, quindi assiste a tutta la scena. Quindi lo zio è tranquillamente sdraiato a terra, che si finge morto perché è stanco, appunto da qui la famosa definizione stanco-morto, il cane che si appoggia, poi se ne va, ma non viene catturato dall'occhio del fotografo, però la certezza è che alle 22.50, questo è Loris, questo è 22.51 da orologio, e questo è proprio un punto fermo ormai dell'inchiesta. Tatiana? Assolutamente Milo, la ragazzina, la sedicenne, era presente al momento in cui Emanuela è salita sul divano e ha scattato queste quattro fotografie, parliamo delle 22.48, 22.51, questo è il lasso temporale in cui Emanuela ha scattato queste quattro fotografie a Loris e così come ci ha confermato lo stesso uomo, lo stesso Loris, la ragazzina, la nipotina, sedicenne, era presente in casa, sappiamo però che a quello che ci ha detto la ragazzina aveva questa leggera indisposizione e ha trascorso gran parte della serata, precedentemente naturalmente a questi quattro scatti, in bagno perché aveva questa piccola indisposizione. Va bene, diciamo saltualmente in bagno, ma dalle 22 alle 22.50, sono 50 minuti, in questi 50 minuti è sempre stata in bagno questa ragazzina, ci auguriamo di no, quindi... Anche perché sennò non sarebbe una leggera indisposizione, ma sarebbe stato qualcosa di senza entrare nel dettaglio, però diciamo... Io penso però che avesse ragione l'investigatore Denti quando diceva che questi signori parlano, a volte anche in maniera un po' imbarazzante. Ma pensate una cosa, sono rapidissima, ci ragionavo ora mentre ci facevi vedere questi documenti, come il fatto di parlare con Milo Infante, con la televisione, può modificare e secondo me anche creare delle situazioni che poi gli inquirenti metteranno senz'altro sotto osservazione, il modo in cui tu parli, cioè il fatto che oggi noi abbiamo tutti questi testimoni che ci parlano, qui, per televisione. In questo caso parlano con Tatiana Bellizzi e si lasciano sicuramente andare anche magari a dei pensieri che forse, diciamo, possono prestarsi a una duplice interpretazione. Alla nostra Cristina Mastrandrea. Posso aggiungere solo una cosa, mi sembra particolarissimo il fatto che Pierina fosse al telefono con uno dei figli, che ricordiamo sono stati proprio i primi a dire che credevano assolutamente a Manuela a prendere le sue difese subito dopo l'omicidio. Cioè comunque loro sono stati molto dalla parte di Manuela, ora sono spariti, però i primi giorni anche con gli avvocati, anche qui da te a ore 14, proprio si sono espressi attraverso i loro avvocati dicendo che erano assolutamente dalla parte di fiducia totale di Manuela. Sai che certe dichiarazioni vengono rilasciate. A me sembra davvero poco credibile il fatto che due amiche si telefonino, si parlano, viene a casa mia, ti faccio ascoltare, tua socia ti parla male di te. Veramente credo che sia un calcolo impossibile da determinare, oppure una discreta dose di fortuna. C'è un altro particolare che ogni tanto ci torna in mente, ed è una dichiarazione che Loris ha rilasciato a Mattia Carchia, a Cristina Mastrandrea e a Mattia Carchia, quando, insomma, nei primi momenti di questo delitto deve raccontare, deve dare una spiegazione, ammesso che mai ce ne sia bisogno, della sua presenza nella casa della sorella. Sentite cosa dice. Martedì sera, quando è stata uccisa Pierina, tu dove eri? Allora, io ero in condominio, ero andato lì pomeriggio perché avevo saputo dell'incidente di un amico. Dopo poi alla fine, con lo scuso di essere lì, mia sorella mi ha invitato a cena, siamo stati lì a cena, sino tardi, un po' insieme. Fino a che ora sei stato lì? 10.40. Un tuo amico del palazzo aveva avuto un incidente? No, un amico aveva avuto un incidente, no? Mia sorella mi ha mandato le foto, ero andato lì con la scusa di parlare di questa cosa qui. Sei arrivato prima di cena? A memoria molto prima di cena, forse 5, 5 e mezza. Allora, non c'entra niente, non vuol dire assolutamente niente, sono una suggestione. Tatiana Bellizzi, Luis, mi sembra di ricordare che proprio al nostro microfono l'hai sentito tu, ha detto che in realtà non ha visto Loris, no? Ma si sono parlati al balcone, è corretto questo? Assolutamente, assolutamente. Ricostruiamo brevemente quelle che sono le dichiarazioni di Loris confrontandole con quelle di Luis. Cosa sappiamo di quel pomeriggio del 3 ottobre scorso? Sappiamo che Manuela, verso le 16 e 57, invia sul cellulare del fratello una foto della moto di Luis. Sappiamo che Luis, il giorno precedente, così come certificato da un verbale della polizia locale, ha avuto questo incidente stradale. Manuela invia queste foto a Loris, gli scrive anche, è vivo, sta bene. A quel punto cosa fa Loris? Decide di passare a salutare l'amico. Viene qui in via del ciclamino, citofona Luis, Luis non è presente in casa. Allora decide di andare dalla sorella, a casa della sorella. In quel momento in casa è presente solo la sedicenne, più tardi arriverà Manuela. Poi cosa succede? Che verso le 19 Luis torna a casa, i due si scambiano qualche battuta, qualche chiacchiera proprio attraverso i balconi parlando appunto di questi pezzi di ricambio della motocicletta. Sì, la domanda per carità, fino a se stessa è, ma tu hai un amico che ha un incidente in moto, lo vai a trovare a casa, che ti metti a parlare dal balcone, da balcone a balcone? Perché non l'ha trovato inizialmente? Però dopo sì. Però magari da balcone a balcone perché adesso posso immaginare il giorno dopo un incidente, magari indagio e tutto, insomma non te la senti magari a quel punto di scendere, ti eri assicuri. Fin lì è anche... Vai tu a casa, stai a casa, di solito è il contrario, se tu avessi un incidente non capiterà mai, facciamo tutti gli sfongiuri, vorrei a trovarti, Fabrizia, noi ci mettiamo a parlare da balcone a balcone, o no? Tanto più se sono lì alle 5 per aspettare i corrieri. Per verità. Se sei rientrato probabilmente da un medico, da una visita medica, magari semplicemente da balcone a balcone, gli ha detto, ma sei stato per le visite, adesso metto sul letto con gli antideolorifici e l'altro non si è asceso. Fin qua è credibile. Non è tanto credibile per me che il dopo non uccidio di una parente, di una congiunta, che è un evento che ti sconvolge. Abbiamo vissuti tanti anche noi, magari abbiamo avuto dei lutti, ci ricordiamo quelle giornate benissimo, ci ricordiamo le giornate particolari. No, scusate, io ho una domanda. Non mi ricordo, bisogna essere circa le 5 e mezza, insomma, quando c'è una giornata che ti sconvolge la vita e te la cambia, e te la cambia inevitabilmente, tendenzialmente focalizzi tutti i ricordi nel dettaglio, soprattutto nelle ore successive. Hai detto due cose, entrambe, come dire, meritevoli di approfondimento. Diciamo che nella prima parte muore tua socera, suocera rimani profondamente colpito. Ecco, in questo magari emerge poco, però sai, ognuno elabora il dolore come ritiene. L'altro del cristallizzare tutto quello che accade, ci sei perfettamente ragionato. L'11 settembre, ci ricordiamo tutti alle 15 cosa stavamo facendo in quel momento. Perfettamente. Però guarda, se dobbiamo andare a prendere altri casi di cronaca, pensa se questo è Dines Pipitone, incredibilmente è. Nonostante il primo settembre del 2004, ce lo ricordiamo tutti come se fosse oggi, i testimoni, o presunti testimoni, le persone che potenzialmente hanno visto, sentito, incredibilmente quel giorno non l'hanno cristallizzato nella memoria, ma era solo un esempio tra i tanti. Allora, vorrei sentire la dottoressa Bruzzone e anche ovviamente Federico Ruffo. Il problema grosso è che tutte queste versioni, che questi signori stanno continuando a elargire generosamente davanti alle telecamere, sono ormai dentro l'inchiesta, Milo. Perché alcune delle famose incongruenze derivano proprio da alcune interviste che sono state rilasciate. Quindi tutto quello che stanno raccontando adesso è parte del compendio investigativo. E questi continui aggiustamenti su orari, incontri, situazioni, in qualche modo tutte le versioni fornite che possono essere frutto di dimenticanze o di scarsa attenzione, è una lettura, ma possono anche essere frutto di altro, come evidentemente ipotizzano gli inquirenti. E quindi, ripeto, tutto quello che hanno dichiarato adesso, non soltanto dentro le stanze della Procura o del commissariato, fa parte di queste inchieste. Federico Ruffo, a parte la battuta, io trovo veramente incredibile l'appuntamento con Origliata. Cioè tu dai appuntamento alla tua amica perché sai cosa c'era, la telefonata di insulti alla nuora con il figlio alle 17.30, vai in onda. Mi ricorda l'apparizione in quel giorno, in quell'ora, c'era la telefonata dell'insulto. Lo trovo un particolare che ha raccontato Loris, veramente... Guarda, al di là dell'inverosimiglianza della cosa, tu mi insegni, tutti voi mi insegnate, insomma, io l'ho preso in 25 anni di questa professione, che all'interno di un'abitazione, all'interno di un condominio, all'interno di un centro abitato, possono succedere veramente un'infinità di cose che vista da fuori sembrano inverosimili. Poi prese sul momento, con i diretti protagonisti, tutto può cambiare, tutto può diventare vero, tutto può essere vero. Detta con grande franchezza, mi sembra che in questo caso, come in pochi altri, il ruolo che nel tempo i media hanno assunto anche attorno a casi di cronaca come questo è diventato centrale, perché ormai tutti, o quasi tutti, sanno come ci si comporta davanti alle telecamere in casi come questo, sembra quasi che tutti siano allenati, no? Se ti succede qualcosa vicino casa, se succede qualcosa dentro casa, se muore qualcuno a te vicino, sai già come comportarti con i media. loro mostrano una certa disinvoltura, un eccesso di disinvoltura, tanto da dire cose che poi finiscono anche per inguagliarli, mi pare, cadono in contraddizione. Anche perché poi il ricordo di una serata come quella può avere delle discrepanze, insomma quei 50 minuti di differenza fra una cosa e un'altra, se ci pensiamo bene, ci possono stare, uno può non guardarlo, l'orologio, ci possono stare. È tutto molto nebuloso, ed è tutto purtroppo, visto che c'è una vittima, anche molto farsesco in alcuni momenti, al limite dell'inverosimile. Mi pare che ci sia un unico dato certo, mi correggerà la dottoressa Abruzzone, che in questo è sicuramente più navigata di me, più preparata, c'è un corpo martoriato con un numero di coltellate non trascurabile, con una certa violenza, che indica abbastanza chiaramente un delitto con una forte rabbia. Ed mi sembra l'unico punto certo di tutto questo, cioè l'assassino ha agito d'impulso, ha agito sul momento, ha agito con una rabbia forte, che si portava dietro da tanto. Tutto il resto purtroppo in questo momento è male delle dichiarazioni che mi sembrano poco verificabili. Mi pare di ricordare... Però ecco, aspetta, scusami Federico. ...in queste ore che c'è anche un investigatore che era stato assunto e ha rinunciato. E poi ha rinunciato. E poi ha rinunciato. Sostanzialmente dicendo rinuncio, perché i miei assistiti parlano troppo, e perché francamente è sospetto di qualcuno. Ma di questo torneremo a parlare sicuramente domani. c'è un altro tema che vogliamo affrontare con voi.